Non riesco a ingranare. E te come va? Sempre meglio, grazie. Scusa un momento. Oh, che fortuna! È stato un miracolo che non l'ha colpito. No, è il classico tipo di cui si dice. E' un fortunato di così si muore. Eh, fortunato. Fortunato perché quando rientro a casa trovo l'ascensore pronto. Dici niente? Lei lo aspetta l'ascensore? Sempre. Io mai. Guardi. Sale? Secondo. Secondo piano? No, dico, secondo come la prende l'ascensore, sai? Con questi pesi. Scusi, eh. E mi dica, è due alla carriera del fortunato? Eh, da ragazzo ho cominciato vincendo nelle lotterie rionali. Poi dopo il servizio militare papà ha voluto che mi dedicassi ad un lavoro più serio. E allora ho continuato la mia carriera a Terni. Un bel cittadino. A Terni. Ma conosco. No, a Terni all'otto. Vincendo Terni all'otto. Tre, quattro Terni alla settimana. Poi la maturità, le responsabilità, la famiglia, sa com'è. E allora mi sono dedicato ad una professione più sicura. Oggi faccio il tredicista. Vinco al toto calcio. Sistemista? No, sistemato. Tre, quattro, cinque, tredici alla settimana. Ma quello che mi fa rabbia è la fortuna che ha nelle piccole cose. E beh. Lei il tram lo aspetta? Sempre. Lui? Vai, vai. Se di casa, il tram è ripronto. Vuoto. Ah, e la storia del piano? Beh, aveva avuto a che dire con la domestica e allora... Sono stossa! Fuori o ti sbatto il piatto in testa! Provi! In quel momento entrava mia suocera. Questa volta è andata male. Male? Come? Tiro un piatto alla cameriera, lo sbaglio per un pelo, becco in pieno alla suocera. Più fortunato di così. Beh, più fortunato di così sono stato ieri. Comprenderà. Che è successo? La mia salute. Aveva fatto un dolce per te, il cane se l'ha mangiato. Che goloso. Non abbaglia. Beh, scendo a comprartene un altro. Per contare un altro dolce? Un altro cane, perché ho paura che con quella torta sia... Ma è nato con la camicia. Sì, ma con una camicia di Popelin Capri non facciamo pubblicità. Popelin Capri, il tessuto di qualità superiore per camicie e camicette in una gamma infinita di colori inalterabili. Prodotto esclusivo e garantito del cotonificio Valle Susa. Popelin Capri ogni giorno. Ad ogni ora, per ogni età. Con Popelin Capri sempre eleganti, sempre alla moda. Tessuti garantiti Susa. I tessuti di qualità superiore. I tessuti di successo.